Fa un appello alla cittadinanza chiedendo collaborazione il primo cittadino sancataldese Gioacchino Comparato per far sì che la città possa rimanere pulita. Nei giorni scorsi infatti attraverso i social aveva anche raccontato dei sopralluoghi effettuati insieme all'assessore all'ambiente Michele Giorratano e alla consigliera comunale Francesca Cammarata in alcune zone periferiche in cui erano presenti rifiuti abbandonati per le strade. Noi non avremo più alcuna toleranza, scrive infatti nel posto lo stesso sindaco. Il compito dell'amministrazione è quello di tenere la città pulita. Su questo non c'è dubbio, ci lavoriamo giornalmente e giornalmente vogliamo svolgere al meglio i nostri compiti. Però è evidente che cerchiamo la collaborazione di tutti i cittadini perché poi quando si assiste a quello a cui assistiamo in alcune zone della città, per esempio via Mimiani è la parte che poi porta verso Merenopoli, verso Caltanissetta, verso le campagne e vediamo tanti rifiuti abbandonati, è evidente che quello non solo è un segno di inciviltà ma è anche un costo ulteriore per il comune che deve provvedere a smaltire quei rifiuti. Per cui chiediamo la collaborazione dei cittadini e oltre alla collaborazione è evidente tolleranza zero per chi abbandona i rifiuti per strada. Nel 2023 non è più concepibile. L'amministrazione sta intervenendo sia ripulendo le aree interessate che attraverso l'installazione di telecamere non solo. Noi abbiamo provveduto a ripulire tutte le zone periferiche della città dove c'erano delle micro discariche non solo nella parte bassa, quindi nella parte della zona Mimiani, quindi quartiere Mimiani, ma anche nella zona alta di San Cataldo per andare verso Serra di Falco. Chiaramente a nostre spese abbiamo ripulito tutto quanto e speriamo e confidiamo nei cittadini tutti e nella buona riuscita di questa raccolta differenziata. E noi per poter ovviare a questo inconveniente stiamo mettendo delle fototrappole o delle videocamere dove è possibile metterle. Nel frattempo l'assessore ricorda che è possibile conferire i propri rifiuti al centro comunale di raccolta. Il CCR è aperto tutti i giorni, anzi addirittura il sabato è aperto mattina e pomeriggio, quindi non capiamo il perché di questo malessere che c'è all'interno della città. Il problema non si verificherebbe invece nelle strade interne del centro abitato. Tranne qualcosa sparuta così ma poi non c'è niente di strano e niente di anormale per quanto riguarda la raccolta differenziata. Anzi devo dire che i cittadini si stanno un po' abituando alla raccolta differenziata. Certo ancora ce ne vuole di strada, abbiamo raggiunto il 70% quest'anno e continueremo su questa strada per poter raggiungere anche obiettivi superiori a quello che abbiamo raggiunto quest'anno.